intanto volevo farti vedere un trucchetto per trovare il taglio quel taglio quello qui quindi c'è il cerchio lo vedi sì ok prendi l'altezza del cerchio dividi in sei proprio vicino così c'ho una cosa in faccia devo trovare un'altra soluzione tiri su questa linea e tiri questa linea cioè levi un sesto e un sesto ok ok il cerchio sta qua ok ci siamo e ok poi c'è la metà e c'è quest'altro ok ok adesso questo qui se io faccio questa cosa e faccio quest'arco no oppure faccio questo più o meno siamo sempre lì ok perché ti ricordi questo qui è tutto un sistema questo qui è tutto un sistema per orientarsi non c'è niente di vero in questo è tutta una roba che serve per aiutare alla nota che io ho lasciato molto di più qualche qua di nuovo giusto ok e anche questo tu l'hai visto qui ci siamo qui ci siamo guarda sì vedi va bene e qui ci siamo a questo punto c'hai il tuo c'hai la tua ecco ok la tua allora io uso questo tu mi hai mandato pure un altro sistema a me viene più facile usare questo questo qui ti viene più facile allora perché parli che altre rogne no perché giusto ho dato un'occhiata ho visto che c'è pensato che quel punto qui no sia il punto dove gira la sì allora quello che tu mi hai mandato quel disegno che tu mi hai mandato aspetta me lo copio adesso te lo ridisegno davanti così vediamo quali sono le le cose da chiarire questo è chiaro comunque sì sì questo è chiaro a questo punto voi noi qui ci possiamo fare la cosa ecco questo questo qui mi riesco ancora a memorizzarlo perché mi viene difficile sì sì però se tu ci ragioni su una testa ok c'hai l'arcata sopraccigliare ok sì che qui rientra qui esce e qui rientra di nuovo e qui in effetti c'ha un pozzo bozzo e poi gira così se quest'altra parte c'hai l'altra arcata perché l'arcata io finisce ti faccio disegnare un teschio eh così ti impari cioè ti impari nel senso che cosa ho un teschio vero proprio qui tu ce l'hai che figo beato copialo dal vivo eh c'è ce l'hai dal vero scusa io non c'è una parola no ma quello l'ho presi l'ho preso su Amazon ho pagato 9 euro dai dimmi dov'è che lo compro e magari dopo ti mando il link grazie allora poi che succede ti dico che faccio io io mi io mi metto la la palla dell'occhio perché questo mi aiuta a capire dove sta la palla dell'altra palla dell'occhio vedi ok dopodiché sopra questa qui io ci costruisco sopra sono due e sotto sono tre ok quindi qui è già di quasi discorcio quindi sopra sono due e sotto sono uno due e questo va dietro e lo vedi che viene naturale viene normale la cosa quest'occhio è un po' più piccolo che sto che un po' più grande perché perché questo qui sta più verso di me e c'è comunque prospettiva ok è il naso che mi disorienta allora è il naso è la posizione del naso hai visto dov'è io ho fatto il collegamento toccati qua toccati fra le sopracciglia no eccolo quello lì si chiama clabella la clabella ok o clabella non dipende da chi lo da chi lo scrive continuiamo domani